Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la saga scrittura dice che voi siete sotto il peccato. Infatti è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 3, tutti giudei e greci sono sotto il peccato. Siccome è scritto non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro via è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Dunque questo è quello che dice la parola di Dio, che è verità, in merito a coloro che sono sotto il peccato. Che cosa significa essere sotto il peccato? Significa essere signoreggiati dal peccato, significa essere schiavi del peccato. Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge. Il Dio ha dato una legge. La sua legge è santa. E coloro che la violano si rendono colpevoli nei confronti di Dio, perché violano la sua legge. E appunto questa violazione costituisce il peccato. Dunque gli uomini senza Dio sono sotto il peccato. Voi siete sotto il peccato. Siete signoreggiati dal peccato, infatti non potete fare a meno di peccare. Prendete piacere nel peccare. E dunque a motivo di ciò siete nemici di Dio. Nemici di Dio nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie. Perché le vostre opere sono malvagie. E essendo che siete dei nemici di Dio, l'ira di Dio è sopra di voi. Cioè Dio è indignato con voi. Dio è adirato verso di voi. Perché Dio è santo. Dio è giusto. E non tollera l'iniquità che voi commettete. Dunque l'ira di Dio è sopra di voi. E quindi siete privi della gloria di Dio. Infatti dice la scrittura tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Voi siete sulla via che mena in perdizione. Proprio perché siete dei peccatori. E' chiamata via che mena in perdizione perché è una via che mena in un luogo di tormento. Un luogo di tormento dove c'è il fuoco. Questo luogo è l'inferno. Voi siete diretti all'inferno. Voi non siete diretti in paradiso. Voi siete privi della gloria di Dio. Tenetelo ben presente questo. Dunque siete diretti all'inferno. In questo luogo di tormento dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati essendo appunto schiavi del peccato. L'inferno è un luogo reale. Il fuoco che c'è all'inferno è un fuoco reale. Il tormento che c'è all'inferno è un tormento reale e voi ci state andando. Ma sappiate anche questo. Che nella pienezza dei tempi l'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che in essi ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo per essere il salvatore del mondo, per salvare i peccatori, per affrancarli dal peccato e portarli sotto la grazia. Dunque è venuto nella pienezza dei tempi il figliolo di Dio, il suo nome è Gesù Cristo. È venuto e ha compiuto l'opera di redenzione che era stata preordinata da Dio prima della fondazione del mondo. Infatti egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito e risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture. E poi apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti, secondo le quali le cose appunto dovevano avvenire così. Queste scritture dei profeti concernevano il Cristo, cioè l'unto che Dio aveva promesso a Bantico per mezzo dei suoi profeti di mandare nel mondo per salvarlo. E dunque vi annunzio che chi crede nell'Evangelo, cioè nel messaggio che vi ho appena annunziato, viene affrancato, liberato dai suoi peccati. Viene giustificato perché viene reso giusto, viene perdonato perché i suoi peccati gli vengono rimessi mediante il nome di Cristo Gesù, viene riconciliato con Dio perché appunto mediante Cristo Gesù viene la pace con Dio e chi crede nell'Evangelo ottiene anche la vita eterna. Quindi egli viene strappato dal fuoco dove era diretto. Quindi io vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco perché in esso la giustizia di Dio rivelate da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Dunque vi scongiuro nel nome del Signore a ravvedervi, cioè a cambiare mente, ad abbandonare i vostri pensieri iniqui e a credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Credendo nella buona novella o Evangelo sarete salvati, affrancati dal peccato e appunto sarete trasportati sotto la grazia. Non sarete più sotto il peccato ma sotto la grazia di Dio. C'è l'immeritato favore di Dio. Perché? Perché la salvezza, il perdono dei peccati, la giustificazione, la riconciliazione, la vita eterna sono tutte cose che si ricevono per grazia di Dio. Non per opere giuste che si sono fatte nella maniera più assoluta ma per grazia affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio. Quindi sappiate che siete sulla via della perdizione ma se vi ravvedete e credete nell'Evangelo sarete salvati e strappati quindi al fuoco dove siete diretti. Sarete strappati da quel fuoco e la morte non vi farà più paura perché voi adesso avete paura della morte non sapete dove andate. La morte non vi farà più paura perché avrete la vita eterna. Avete la certezza che quando vi ripartirete dal corpo andrete nel regno dei cieli in paradiso. È là che il Signore salverà la vostra anima. Ma se voi perseverate nella vostra incredulità ciò che vi aspetta quando morirete è questo luogo di tormento chiamato inferno che è un luogo terribile orrendo dove coloro che ci sono sono tormentati. Quindi io vi ho annunziato il ravvedimento ma vi ho anche annunziato l'Evangelo la buona novella nella quale credendo l'uomo viene salvato perdonato giustificato riconciliato con Dio ed ottiene la vita eterna. Che farete? indurerete il vostro cuore o crederete? Sappiate che se indurerete il vostro cuore ciò che vi aspetta è la condanna. Gesù Cristo lo ha detto chiaramente chi non avrà creduto sarà condannato. Non illudetevi non date ascolto a coloro che vi dicono che il Dio salverà tutti a prescindere quello che gli uomini credono e fanno. Ascoltate coloro che vi dicono queste cose sono dal diavolo. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo altrimenti per voi non ci sarà assolutamente alcuna possibilità di salvezza. Nessuna ciò che vi aspetta è il tormento. Il tormento prima nel fuoco dell'inferno e poi e poi nel fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda nel nel quale sarete gettati il giorno del giudizio quando compare risusciterete e comparirete davanti al trono di Dio per essere giudicati e poi gettati in quest'altro luogo di tormento terribile dove sarete tormentati nei secoli dei secoli eh anima e coro quindi io vi ho avvertiti vi ho avvertiti che ha orecchi da udire o da grazie a tutti